È evidente che noi siamo in una fase di conversione di un decreto legge e quindi dover inserire norme che hanno contenuto esclusivamente ordinamentale. Non è semplice, non è facile e quindi lo abbiamo escluso. Abbiamo individuato tre interventi che si possono fare subito e che sono utili a semplificare e ad accelerare. Il primo riguarda la revisione delle circoscrizioni giudiziarie con la soppressione di tutti i tribunali e con il mantenimento di un tribunale per provincia. E con un limitato numero di sezioni distaccate che vengono individuate secondo le procedure previste dall'ordinamento vigente in ragione delle esigenze territoriali, del contrasto alla criminalità organizzata, eccetera. La seconda, una modifica dell'articolo 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che obbliga il giudice civile a definire un calendario secondo i tempi del giusto processo di intesa con le parti a quel calendario di inizio e chiusura del giudizio a tenersi pena anche la responsabilità di natura disciplinare del magistrato che non si attenga a quella tabella di marcia per chiudere celermente il giudizio civile è stabilito di intesa con le parti. La terza riguarda la riforma del sistema delle notifiche degli atti giudiziari sia in materia penale che in materia civile attraverso l'introduzione diffusa ovviamente della posta elettronica certificata che è una cosa che incide sia sui risparmi di spesa che sull'utilizzo del personale soprattutto per quanto riguarda la materia penale.